Imprenditori con un debito con l'agenzia delle entrate, qual è la prima cosa che bisognerebbe valutare per risanare la situazione? Il primo strumento che ogni imprenditore dovrebbe valutare quando ha un debito con l'agenzia delle entrate che è ancora sostenibile e che magari è già oggetto di rateizzazione è la composizione negoziata della crisi di impresa, una procedura che si svolge in camera di commercio attraverso la nomina di un esperto proprio da parte della camera di commercio che valuterà la possibilità di risanamento dell'impresa attraverso un piano con cui si può sostenere nei vari anni il debito con l'agenzia delle entrate per cui se sei un imprenditore e hai un debito che è importante ma non è ancora sovradimensionato rispetto alle possibilità della tua impresa dovresti valutare la composizione negoziata della crisi di impresa per scoprire come farlo oppure se hai bisogno di un suggerimento da questo punto di vista vai sul nostro sito www.fortax.it e lascia i tuoi contatti cercheremo di fare una chiamata insieme per capire come possiamo aiutarti di fare una chiamata insieme per blu